Il progetto storiografico di Tacito, il suo programma storiografico e poi in generale anche ancora lo stile e la fortuna di Tacito. Insomma, concludiamo con questa lezione la spiegazione su Tacito. Sì, un rappresentante di classe. Benissimo. Allora, parliamo adesso delle altre due opere di storiografia di Tacito che non sono più opere monografiche come l'Agricola e la Germania, ma sono opere di più ampio respiro. All'inizio dell'Agricola, già Tacito dichiarava di voler narrare gli anni della tirannine di Domiziano, seguiti dalla recuperata libertà sotto Nerva e Traiano. Allora, a quanto pare, il progetto storiografico era molto chiaro nella mente di Tacito. Cioè Tacito voleva contrapporre la tirannia di Domiziano, in modo particolare, ma anche magari di altri imperatori, a quello che invece stava avvenendo al suo tempo, cioè l'impero per adozione e quindi la grande svolta che con Nerva e Traiano si ebbe, per cui il potere non fu affidato ad una famiglia, una gens, visto il fallimento, diciamo così, di quanto era avvenuto insomma nel primo secolo dopo Cristo con la gens, con la dinastia Giulio-Claudia e con la dinastia Flavia, si voleva utilizzare un nuovo criterio, cioè quello di affidare la guida dell'impero alla persona più capace, più adatta, a prescindere dal fatto che appartenesse o meno ad una determinata famiglia. Il problema è questo, che questo programma storiografico originario non si realizza esattamente come l'aveva scritto lui, ecco, nell'agricola aveva detto lui questa cosa, no? Non si realizza questo processo da anni bui a tempi sereni. Non si arriva ai tempi sereni. Infatti i due libri di storia che poi lui scriverà si fermeranno appunto al periodo precedente e quindi al periodo in cui prevarranno la tirannide. Questo programma viene modificato nelle storie che non si occupano degli ultimi due imperatori, ma ricostruiscono la storia della dinastia Flavia. Alla vecchiaia Tacito riserva la trattazione dei principati di Nerva e Traiano, che però poi di fatto non affronterà e quindi rimarrà questo buco, insomma, non ci sarà il processo, l'evoluzione in senso positivo, ecco, che lui invece aveva preventivato. L'ultima opera storiografica, gli Annales, con gli Annales addirittura ritorna indietro, prende l'avvio dalla morte di Augusto primo imperatore per ripercorrere il regno degli imperatori Giulio Claudi. È evidente quindi che, mano a mano, che andava avanti, l'interesse di Tacito si rivolge sempre di più verso lo studio del potere e quindi vuole andare alle origini di questo potere, proprio di come mai è nato l'impero, come è nato l'impero. Il famoso studioso Michael von Halbrecht, Michael, anzi, von Halbrecht, scrive, Nel complesso, l'opera storica di Tacito permette di ravvisare una coerente linea di tendenza dalla storia contemporanea all'indietro, verso il passato, e inizia con una biografia del suocero agricola, progetta di descrivere il regno di Domiziano la felicità presente, ben presto però intuisce che Domiziano va interpretato nel quadro di una storia della dinastia Flavia, nascono così le storie, che prendono le mosse dall'anno 69. All'inizio di quest'opera, Tacito afferma di aver rimandato alla sua vecchiaia la descrizione del presente. Dopo aver portato a termine la storia, egli si rifà però ancora più indietro e quindi, come vedete, non realizza il suo progetto. Le radici del presente vanno illuminate con la storia del primo periodo del Principato. Lo storico conta sul fatto che i suoi lettori siano capaci di trarre simili paralleli. Più tardi, Tacito manifesta addirittura l'intenzione di scrivere sull'epoca di Augusto. È possibile osservare come nel corso della sua opera acquistino sempre maggiore importanza precedenti del primo Principato e dell'ultimo periodo repubblicano. Così la storia contemporanea, nella sua parte felice, è restata da scrivere. Quindi Michael von Albrecht in questa storia della letteratura latina ripercuote un po' il discorso che abbiamo fatto prima. Cioè dice teoricamente di voler poi descrivere i suoi tempi felici ma di fatto man mano che prosegue, continua a scrivere, diciamo che va ancora più indietro nel passato a vedere, a ripercorrere, volevo dire, quelle che sono le origini del Principato. Allora iniziamo a parlare quindi delle storie. Le storie sono fortemente frammentari. Ci sono rimasti solo pochi libri, insomma, delle storie. Allora le storie abbiamo detto che andrebbero teoricamente da 69 fino al Principato di Domiziano ma noi abbiamo solamente gli avvenimenti avvenuti nel 69 e quelli dell'inizio dell'anno 70. Nel primo libro la figura di Galba suggerisce attaccito alcune considerazioni politiche. Le guerre civili del 69 dimostrano che l'imperatore ormai non viene scelto a Roma ma dalle legioni di stanza in terre lontane. Galba ad esempio era comandante delle legioni nella Spagna, Ispania e lì i soldati l'hanno proclamato imperatore. Poi dopo di lui Ottone e sono stati, come dire, i pretoriani a proclamarlo imperatore. Mentre Viteglio è stato proclamato princeps dalle sue legioni in Germania. E così anche Vespasiano proclamato imperatore dalle sue legioni in Oriente, in Giudea in modo particolare ma in generale in Oriente. Il modello etico incarnato da Galba col suo ottuso rispetto per le antiche virtù repubblicane non è più attuale. Serve un imperatore capace di conciliarsi le simpatie dei ceti dirigenti e delle truppe. Quindi abbiamo detto che Tacita è un nostalgico repubblicano. Però si rende conto anche che un personaggio ad esempio come Galba che cerca di riaffermare più o meno alcuni valori repubblicani ma lo fa in un modo politicamente poco accorto è senz'altro poco efficace, poco utile. L'adozione, cioè la scelta del migliore è il criterio di successione più adeguato. Questo però rimane un po' un progetto che poi comunque non porta a compimento tacito perché non descriverà questo principato di adozione. E allora la sua opera storiografica si concentra sui rapporti fra il principe e il senato, il principe e l'esercito, il principe e il popolo. Ecco infatti le masse e i singoli. La narrazione nelle storie è condotta all'insegna di una continua tensione drammatica. Il ritmo è vario, incalzante, gli eventi sono spesso compressi. Ecco la famosa brevitas. Insomma Tacito è ormai un senatore di seconda o di terza generazione. Quindi non può più pensare realisticamente di poter restaurare il regime repubblicano. È ormai accettato l'impero come un dato di fatto. Il principato è un male inevitabile. Occorre solamente utilizzare la forma migliore di governo per... cioè scusate il principato non è la forma migliore di governo per Roma ma è l'unica attraverso la quale lo Stato riesce ad organizzarsi e diciamo occorre adeguarsi a quello che è il male minore e il principato per l'adozione potrebbe essere sicuramente il male minore per Tacito. Tacito si rivela un maestro nella descrizione delle masse. La folla tranquilla o impreda al panico, le soldatesche, la feccia ribella della capitale, ma lo studio delle masse si estende anche a Senato col contrasto tra ossequio apparente e inconfessabile odio per il tiranno. Ai ritratti corali fanno da contraltare i ritratti dei singoli personaggi. Tacito predilige i ritratti sfaccettati di personaggi paradossali che contemperano qualità opposte. E questo comunque lo approfondiremo adesso anche studiando gli annales. No, anzi scusate, ritorniamo alla pagina 322 per approfondire il discorso sulle storie. Allora dicevamo, la necessità di avere un buon principe. C'è un grande salto fra il De Repubblica di Cicerone, di cui noi abbiamo letto, scusate, i Somnium Scipionis nel primo quadrimestre, è appunto le storie di Tacito. Il salto fondamentale è questo, che nel De Repubblica si discuteva su quale fosse la forma di governo migliore, se era migliore appunto la democrazia piuttosto che la monarchia, piuttosto che la repubblica aristocratica, eccetera. Adesso il problema non è quello, ma ormai la forma, diciamo, di governo, il regime che si è affermato è uno solo, ed è quello del principato. E l'unica cosa che si può ricercare è quella di avere un buon principe, un valido imperatore. Quindi non si può più discutere o pensare o immaginare o sognare magari di restaurare un regime diverso, ad esempio un regime repubblicano. Occorre adottare il migliore, questo è l'ottimo criterio. Cioè adottare il, dicevamo, la persona più adatta a svolgere il ruolo di imperatore deve essere adottata dall'imperatore in corso, in quell'anno. E così Nerva adotta Traiano, Traiano adotta Adriano, Adriano adotta Antonino Pio e Antonino Pio adotta Marco Aurelio. E come a dimostrazione della bontà di questo criterio dell'adozione, quando Marco Aurelio non adotterà il suo successore, sarà suo figlio commodo, il meccanismo si incepperà. È chiaro quindi che l'imperatore deve tener conto comunque di dover comandare, governare su uomini che allo stesso modo non sopportano la piena schiavitù come non sopportano la piena libertà. Nel senso che i romani non potranno mai essere sudditi e quindi non possono sopportare di doversi sottomettere in tutto per tutto all'imperatore. Nello stesso tempo ormai i romani hanno accettato invece una sorta di limitazione della loro libertà nel momento in cui ormai il regime imperiale si è affermato. Le storie sono rappresentazioni di un'epoca atroce, anche perché sostanzialmente ci sono rimasti proprio questi due anni e in particolar modo l'anno 69 è sicuramente l'annus horribilis. È infatti un anno in cui c'era una guerra civile e quindi tantissime azioni atroci. E così la storia viene drammatizzata e viene ricostruita dalla psicologia di singoli individui e soprattutto questi personaggi, protagonisti Galba, Otone, Viteglio e Vespasiano. Sono presenti i discorsi diretti dei protagonisti, potenti ed efficaci, scene d'insieme. Comunque è chiaro che dalle storie emerge un'immagine, una raffigurazione dell'impero romano piuttosto negativa. Passiamo adesso a parlare degli annales. Come abbiamo detto a un certo punto Tacito scrive un'altra opera storiografica decidendo di andare ancora più in là nel tempo, ancora più nel passato di quello che è il Principato. Quindi alle origini del regime imperiale. Li chiama così, li chiama annali. Si tratta di un termine che, come ben sappiamo, è un termine tradizionale nella storiografia romana. Lo scopo è quello. Chiedersi come è nato e come si è consolidato l'impero. E quindi, anche se parla di un periodo precedente, è come se gli annales completassero le storie. Andando a scovare quelle che sono le cause della crisi dell'impero che si è manifestata, abbiamo visto nelle storie, soprattutto in quell'anno del 69, andando alle origini proprio di questa forma di questo regime. Le fonti storiografiche sono esplicitamente citate da Tacito, dimostrano il suo lavoro di ricerca e approfondito. Però, ecco, negli annales si acquisce la capacità di analizzare, di confrontare e di criticare anche queste fonti. Anche gli annales, come le storie, sono conservati solo parzialmente. Sono andati perduti i libri dal settimo al decimo, regno di Caligula, inizio dal regno di Claudio. E quindi noi abbiamo i libri dal primo al sesto, il regno di Tiberio. I libri dall'undicesimo al dodicesimo, quindi l'ultima parte del regno di Claudio. E infine abbiamo i libri dal tredicesimo al sedicesimo, quindi abbiamo praticamente tutto il regno di Nerone. Il regno di Tiberio è un sunto di storia costituzionale romana, c'è la valutazione di Augusto. Cioè, comunque, è chiaro che iniziando le storie parlando di Augusto, che aveva lasciato il potere a Tiberio, coglie l'occasione tacito per dare un giudizio anche su Augusto. Sono molto importanti, in questi libri dedicati a Tiberio, i rapporti fra l'imperatore e germanico, che sono rapporti abbastanza, diciamo, non così facili. Tant'è vero che si sospetta il fatto che germanico, che poteva essere davvero un optimus princeps, un ottimo imperatore, sia stato ucciso, anche per volere, dello stesso Tiberio. Perché Tiberio era un po' invidioso del seguito che aveva, seguito popolare che aveva germanico. In questi primi libri si parla anche molto del rapporto fra Tiberio e il suo prefetto del pretorio, Seiano, che seduce la moglie di Druso, un altro importante personaggio sulla scena politica del tempo. fa avvelenare lo stesso Druso, ma Tiberio gli impedisce di sposare la vedova, depone Seiano e lo fa giustiziare nell'ottobre del 31 d.C. Il regno di Claudio. Abbiamo detto che non abbiamo la prima parte del regno di Claudio, abbiamo la seconda parte, è chiaro che viene presentato questo imperatore come abbastanza debole, inetto, succube delle donne, in particolar modo, e dei liberti. Le due mogli, Messalina, che faceva il bello e cattivo tempo nella prima parte del regno di Claudio, poi però, finalmente consigliato da alcuni, diciamo che Claudio si liberò di Messalina e prese un'altra donna, Agrippina, Agrippina minore, ovviamente. Attenzione, questa donna fu ancora più influente nei confronti del marito e alcuni dicono che abbia avvelenato il marito Claudio proprio perché voleva che suo figlio Nerone diventasse imperatore. Ma Claudio era succube anche dei liberti, che assumono un ruolo importantissimo, fondamentale, durante il principato di Claudio. Poi abbiamo tutto quanto il principato di Nerone, e io non mi soffermerei molto sugli aspetti della biografia di Nerone perché conosciamo già molti di questi elementi. Nerone comunque mostra un'evoluzione negativa. Dal quinquennium Felix, quando c'era il suo precettore Seneca e il prefetto del pretorio Burro a consigliarlo, fino ai delitti, in primis l'assassino della madre, Agrippina appunto, la passione per le gare sportive, la musica, il canto, una sorta di degenerazione dal punto di vista della mentalità tradizionale romana che lo ha condotto poi alla fine, insomma, poi anche essere ucciso, anzi a farsi uccidere perché mentre stava arrivando Galba si fa uccidere da un servo, si fa suicidare, diciamolo così in modo un po', passatemi il termine. Il metodo storiografico di Tacito. Tacito utilizza e mette a confronto fonti letterarie e documentarie, discorsi e lettere degli imperatori, atti del Senato, integrandole con testimonianze orali. Il grado di accuratezza dell'informazione è notevole. Tacito proclama più volte di voler esporre i fatti con obiettività, sine ira et studio, senza rabbia, senza passione personale, studio nel senso di passione ovviamente, a tal fine riporta spesso anche i rumores, cioè le dicerie relative alla ricostruzione e all'interpretazione di alcuni eventi. Solitamente si tratta di dicerie di origine popolare. Ne risulta un'esposizione ambigua, inquietante, capace di stendere l'ombra del sospetto su avvenimenti e personaggi senza un intervento esplicito dell'autore, quindi presenta tutte queste fonti e lascia un po' al lettore il compito di vagliarle o comunque di giudicare. Il moralismo è il pessimismo di Tacito. Come Sallusti, Olivio e tanti altri suoi predecessori, Tacito ha un approccio moralistico alla storiografia. Non si limita a ricostruire gli eventi, ma li valuta giudicando pregi e difetti dei personaggi coinvolti. Dalle valutazioni tacitiane emerge una concezione amaramente pessimistica della natura umana. Ecco, dicevamo, uno storico senatore che riconosce l'inevitabilità del Principato, anzi, in questi annales, va alle origini del Principato, ricerca lì le cause della crisi, è piuttosto rassegnato. Il Principato ha spento per sempre, infatti, la libertas repubblicana e quindi abbiamo già detto che se lui ha qualcosa di positivo da dire, poi alla fine non ce lo dice, perché non arriva a parlare di Traiano del suo tempo e anzi approfondisce sempre di più i momenti più cupi, insomma, della storia dell'impero, compreso quello che è avvenuto, in particolar modo, sotto il Principato di Nerone, e le morti illustri dei congiurati. Tale pessimismo, il pessimismo di Tacito, è responsabile della valutazione negativa, valutazione negativa, ad esempio, di tutti i principi di imperatori. Noi, per esempio, gli storiografi moderni rivalutano alcuni imperatori come Tiberio e Claudio che sono stati, invece, molto disprezzati da Tacito. Quindi, lui ha un giudizio totalmente negativo su questi imperatori, dovuto alla sua visione di fondo pessimistica sulla natura umana. Ma, come stavamo dicendo, questi giudizi sono stati poi, in realtà, modificati dalla storiografia contemporanea. E quindi è un giudizio negativo sulla storia, sulla classe dirigente, ormai tanto corrotta da rendere inevitabile il Principato come forma di governo. La psicologia è il ritratto. Tacito è convinto che il cuore della politica sia ormai il palazium dove ha sede l'imperatore. Ma le radici dell'agire umano non sono politiche, bensì psicologiche. E così c'è lo scavo psicologico dei personaggi, ad esempio le due agrippine, l'agrippina maggiore e l'agrippina minore, la messalina. Lo storico vuole sondare in profondità i personaggi, entrando nel loro animus e portandone alla luce passioni e ambiguità. A questo scopo Tacito perfeziona l'arte del ritratto, soprattutto il ritratto indiretto che si costruisce progressivamente attraverso episodi e commenti sparsi. Ad esempio il ritratto di Tiberio. Non è che fa un ritratto dell'imperatore, ma è chiaro che raccontando quello che fa emerge il giudizio negativo appunto su Tiberio. È quello paradossale che coglie la compresenza nello stesso personaggio di qualità opposte, come nel caso di Petronio. Ecco, scusate, prima di passare allo stile però, dobbiamo approfondire questo discorso sulla storiografia tragica di... Oh mamma mia, non riesco ad andare indietro. Ah, volevo andare indietro la diapositiva precedente. Ah, ce la faccio. Vedete che ce la farò. Allora, dicevamo, la brutalità dei fatti. Pensate al fatto che, appunto, qual è il giudizio negativo su Tiberio? Emerge dal fatto che Tiberio fa ammazzare la moglie del suo figlio adottivo germanico. Fa ammazzare anche la figlia di Seiano. Non solo se la prende con Seiano e lo fa fuori, ma fa fuori anche la figlia che inutilmente cerca di esprimere, di divantare la sua totale innocenza. Sono buona. Ecco, ma comunque, visto che per il semplice fatto di essere la figlia di Seiano, deve essere messa a morte. Ecco, dicevamo del personaggio contraddittorio di Petronio, del suo suicidio snob e raffinato, e poi ancora di altri personaggi. Per esempio, ci sono anche dei personaggi comunque positivi negli Annales, come il leale generale Corbulone, oppure l'ottimo germanico, morto in circostanze misteriose, forse per l'invida di Tiberio, come abbiamo già detto, che sarebbe stato un principe migliore. Quindi c'è il rimpianto per il fatto che il germanico è stato messo a morte. Si fa intendere che probabilmente sia stato lo stesso Tiberio a metterlo a morte. Concludiamo questa lezione, allora parleremo dello stile la volta prossima, citando un altro episodio significativo, quello degli incidenti allo stadio. Nel 59 d.C., infatti, c'è una specie di competizione, ci sono delle lotte di gladiatori, partecipa, siamo nello stadio di Pompei, sono presenti anche i nocerini, cioè gli abitanti di Nocera vanno nello stadio di Pompei per sostenere i loro campioni, i loro gladiatori, contro quelli di Pompei. Siccome i pompeiani, però, sono il numero superiore, che cosa fanno? Picchiano a morte i nocerini. E si tratta di un episodio significativo di quella che è la degenerazione morale ormai ai tempi dell'impero.